Potrebbero tornare già dal primo giugno i parcheggi a pagamento sul lungomare di Pescara, nei tratti compresi dalle naiedi fino alla nave di Cascella e dal ponte del mare fino ai teatri Flaiano e D'Annunzio, a eccezione della zona compresa dalla nave di Cascella fino alla Madonnina, dove l'assenza di parcheggi lato monte non consentirebbe la sosta a pagamento lungo la riviera. L'ipotesi, già contenuta in una delibera di indirizzo dello scorso anno, sarà un atto da condividere con le forze politiche di maggioranza che sostengono il governo della città e poi da discutere con le categorie dei balneatori per eventuali modifiche. Per agevolare i residenti delle zone in questione si farà ricorso a un accreditamento con apposita tessera che consentirà la sosta gratuita nei parcheggi lato monte della riviera, mentre eventuali scontistiche, abbonamenti e tariffe saranno oggetto di valutazioni politiche. Balneatori e cittadini intanto già si scagliano contro un provvedimento che, lamentano, danneggerà inevitabilmente economia e turismo. Siamo sempre penalizzati noi del turismo. Pescara non ha grandi aree di parcheggio, forse ce n'è uno solo lì alla stazione. Se si fa una cosa del genere si deve anche organizzare servizi di navetta. Assurda. Per me fa solamente scappare quelli che vengono, perché calcoliamo che tutti i paesi all'interno che vengono al mare d'estate dove parcheggiano? Riviera a pagamento, stazione a pagamento, tutto a pagamento. Cosa succede? Io che sono dispoltore, non vengo a pescare ma non ne vado a Silvio, a Francavilla, dove non si paga. Ma io vando a piedi. Uno viene, parcheggia, non deve pagare, penso, poi ognuno ha il suo punto di vista. No, assolutamente non sono d'accordo. Da un lato non lo trovo tanto giusto, però è anche vero che forse se ne sono in tutte le città d'Italia, non so che dire. Oppure se c'è un parcheggio, anche se non dà un fastidio, arrivano i vigili perché vengono chiamati e sono stragi. Immaginate il turista che arriva e trova anche la multa e quindi per cui è finita. Va contro il turismo? Noi siamo soliti parcheggiare sulla strada parco, per cui ci adattiamo agli orari di apertura e per poter soffrire della comodità di parcheggiare con sicurezza, perché altrimenti diventa una lotta alla ricerca del parcheggio. Noi abbiamo una riviera bellissima, si potrebbe anche farla a pista ciclabile completamente chiusa, però devi dare alternativa a chi va a parcheggiare lontano da questa riviera, quindi con navetti, trenini e quant'altro. Già abbiamo questo problema gravissimo sulla nostra città di Pescara, perché due parcheggi non ne abbiamo proprio. Figuriamo se sono anche a pagamento, ma il problema è che non ce ne sono proprio, quindi anche il turista che arriva trova questa problematica del parcheggio. Una città turistica, insomma, dovrebbero fare qualcosa per accogliere i turisti, non per mandarli via. Già noi residenti qua in centro facciamo difficoltà a trovare i parcheggi sulle vie traverse. Se mettono a pagamento tutta la riviera ci rimane solo le vie traverse. Se adesso siamo in centro diventeremo in duemila. Le mie macchine ce le portiamo in casa, non lo so. Noi siamo una città di mare, quindi dobbiamo un attimino, il sindaco deve capire che deve allestire per la stagione estiva, se crede nel turismo a Pescara.